Canvas or canvas? Qual è la differenza? Ciao sono Monica di ImparaLingleseComonica.com e nel breve video di oggi andrò a svelarti la differenza tra queste due parole. Canvas in inglese vuol dire tela, quindi in inglese potremmo definirlo a type of strong cloth, quindi un tessuto rigido. Una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere Children often wear shoes made of canvas, quindi i bambini spesso indossano scarpe fatte di tela. Canvas invece significa fare un sondaggio, in inglese quindi potremmo definirlo come seek people's votes, quindi sondare i voti delle persone. Una frase che vede questo verbo protagonista potrebbe essere The salesman canvassed throughout the neighborhood to gauge interest in his product, quindi il venditore ha sondato, ha fatto un sondaggio nel vicinato per testare e misurare l'interesse nel suo prodotto. Bene per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.